Ed eccoci finalmente giunti all'esame finale delle nostre immagini. Cosa ho fatto? Ho creato quattro files multilivello e ciascun file contiene otto livelli, come potete vedere. Sullo sfondo l'originale, poi il livello 1 che corrisponde al passo 1, livello 2 che corrisponde al passo 2 e avanti fino all'ultimo passo il numero 7 del nostro flusso di lavoro. Lo scopo di questa operazione è duplice. Ah, premetto che tutti i file sono stati convertiti in Adobe RGB perché alcune immagini, come sapete, erano in RGB, altre erano in lab, quindi per omogeneità tutto è stato opportunamente riconvertito. Lo scopo di questa operazione, dicevo, è duplice. Innanzitutto vedere da dove siamo partiti e dove siamo arrivati e poi vi ricordo che avevo insistito sul fatto che almeno uno dei nostri passi andava salvato ed era quello relativo al livello 3, ovvero ombre e luci, se vi ricordate, nel momento naturalmente in cui si decideva di fare quell'operazione. Perché? Perché questo livello contiene la versione conservativa dell'immagine che ci serve per fare il blending con il livello più avanzato, il settimo, nel momento in cui questo risultasse troppo saturo. A questo punto cominciamo. Eravamo partiti da qui. Questo era l'originale. E siamo arrivati naturalmente qui. Questo è il passo numero 7. Facciamo un rapido riepilogo. Manovra sul colore. Manovra sulla luminosità. Ombre e luci. Non abbiamo fatto nulla. Non c'era martello grande. Non abbiamo fatto nulla. Non c'era moltiplica. Modern Man from Mars. Color boost. Troppo colorata? Forse un pochino. A questo punto possiamo togliere questi livelli intermedi e basarci sul livello numero 3, che è quello conservativo, ma vedete anche quanto è smorto rispetto a quello che abbiamo ottenuto, e fare un blend dei due, ovvero portare l'opacità, ad esempio, al 50%, se pensiamo che 100% sia troppo saturo. Di conseguenza, un mix che ci dà questo risultato, ovvero metà dell'ultimo livello, sopra questa immagine. Vi ricordo che eravamo partiti da qui. Direi che abbiamo a che fare in questo momento con un buon risultato. Passiamo ai rinoceronti. Questo è il risultato finale. Magari lo sposto un po' qua, perché quello che ci interessa è capire anche cosa succedeva qui nelle ombre. E vi ricordo incredibilmente che eravamo partiti da qui. Allora, versione originale, correzione del colore, luminosità, ombre e luci, martello grande, che questa volta è stato fatto, moltiplica in lab, che è stato fatto, modern man from Mars, color boost. Sinceramente, gusto acquisito forse, non credo che questa versione sia troppo satura, ma sono certo che qualcuno penserà di sì. Allora, ci basiamo sulla versione conservativa, che come vedete sembra quasi un'immagine in bianco e nero in confronto, e utilizziamo, che ne so, magari un 75% circa di questa, 70, forse possiamo scendere fino a 60. 60? Ecco, andiamo un po', passiamo da qui, versione conservativa, a qui. Sempre ricordando comunque che l'originale era questo, e direi che non ci sono paragoni. Simone e le sue anatre. Andiamo a vedere. Il punto di partenza era questo. Correzione del colore, intervento sulla luminosità, ombre e luci, martello grande, assolutamente necessario, moltiplica, modern man from Mars, color boost. Io lascerei questa versione così com'è, ma di nuovo, se pensate che sia un po' troppo satura, avete sempre l'opzione di ridurre. Io non scenderei oltre il 65%. In altri termini, punto di partenza e punto di arrivo. Ultima immagine, l'attraversamento pedonale. Siamo partiti da qui. Prima correzione del colore, correzione e ottimizzazione della luminosità, ombre e luci, martello grande, moltiplica in lab, modern man from Mars e infine color boost. Questa versione, forse è la più variopinta di tutte, è quella su cui di fatto andrei a intervenire. Una possibilità è la solita, livello 7, cioè ultimo step, su livello 3, ovvero su step conservativo. Andiamo a vedere, per esempio, se riducendo al 60% o dintorni l'opacità, le cose possono un pochino migliorare. Direi che è una versione più interessante. Un'alternativa, se lo vogliamo, potrebbe essere quella di cercare una maschera, ovvero di portarci qui al 100% e andare a esaminare i canali di questa immagine, in particolare il rosso, il verde e il blu. A mio modo di vedere, il rosso sarebbe un buon candidato. Perché? Perché è molto chiaro nell'area che di fatto ci sembra ancora la più aggressiva, che è quella del giallo. Mentre, sempre il rosso, è abbastanza scuro altrove. Di conseguenza, quello che io farei è applicare eventualmente il rosso invertito a questo livello sul livello 3. Andiamo a vedere se questo può avere un qualche senso. di conseguenza, maschera di livello su livello 7, applica immagine e da unito applicherò il rosso invertito. Come vedete, questo smorza molto il giallo. Vedete? Allora, senza maschera, con la maschera e ci permette comunque di avere una notevole enfatizzazione del colore. A vostro gusto, nel senso che, come avete capito, ci sono dei parametri da rispettare, ma non c'è una regola ultima. Quello di cui sono assolutamente certo, ed è difficile che cambi idea sinceramente su questo, è un fatto molto banale, che tra l'originale e questa versione, che comunque abbiamo limitato, quella che vi ho fatto vedere adesso, penso che la stragrande maggioranza delle persone sceglierebbe questa versione, più plastica, più tridimensionale, più interessante dal punto di vista cromatico. Se poi naturalmente vogliamo togliere la maschera, esagerare e limitarci a ridurre l'opacità, che ne so, al 70%, e quindi avere una foto veramente variopinta, veramente estrema, possiamo fare anche quello. Quindi adesso capite perché il valore, in qualche modo, dell'esagerazione. Bene, è qualche bel quarto d'ora che stiamo parlando di questo flusso di lavoro, il PPV, e io vi ho detto che è un flusso di lavoro che si fa in tre minuti. Non so se ci credete, ma per dimostrarvi che in tre, massimo quattro minuti si può fare un'immagine, nella prossima lezione ne farò una ex novo in maniera completamente verticale, cioè partendo dall'inizio e andando fino alla fine e vediamo quanto dura effettivamente la procedura una volta che viene padroneggiata. Prossima lezione, quindi nuova immagine.